Per te imprenditore, nel labirinto della burocrazia amministrativa, raccogliere la documentazione ufficiale della tua impresa può essere non solo complesso, ma anche oneroso in termini di costi diretti e indiretti. Per superare tutto questo nasce impresa.italia.it, il cassetto digitale dell'imprenditore. È un servizio offerto dalle Camere di Commercio d'Italia, realizzato da Infocamere. Allora, oggi il Centro Europe Direct è qui al Giordani perché il Giordani è un istituto partner della rete locale di Europe Direct Caserta. Noi svolgiamo attività di informazione di quelle che sono tutte le politiche europee e su tutti quelli che sono i programmi comunitari rivolti ai giovani. Quindi oggi i giovani saranno protagonisti perché recepiranno tutte quelle informazioni in merito ai programmi e soprattutto perché sta partendo la campagna per le nuove elezioni europee del 2019. Quindi informeremo i ragazzi su quelle che sono anche le piattaforme a cui rivolgersi come cittadini italiani ma europei per andare a votare. Ovviamente ci saranno anche altri istituti dell'ambito territoriale e provinciale, quale il Bonarroti di Caserta e il Liceo Scientifico Galilei di Mondragone, proprio perché l'Istituto Giordani si pone come ente moltiplicatore nel territorio di informazioni delle politiche comunitarie. L'attività di Europe Direct continua a crescere grazie anche attraverso i partner che abbiamo sul territorio, gli enti e le istituzioni. Svolgiamo anche attività radiofoniche, attività nelle scuole, negli enti, nelle università, proprio per raggiungere in maniera capillare i cittadini, i cittadini che hanno l'Europa vicino a loro. Per tutti i tipi di informazioni noi consigliamo ai cittadini di rivolgersi ai nostri social come ad esempio il nostro sito www.europedirectgaserta.eu e tutti i social network su cui svolgiamo attività di informazione. Sì, è un tema che c'è molto caro e molto caro alla nostra dirigente, alla dottoressa Serpico che comunque ha sempre intrapreso un percorso parallelo con la dottoressa Girfatti e con il centro Europe Direct. Crediamo moltissimo nella possibilità di offrire occasioni e opportunità che vadano al di là dell'ambito locale ai nostri ragazzi, anche perché riteniamo che ci sia una specificità e una peculiarità della scuola in questo senso.